Senta, è Montezemolo che scende in politica? Lei come lo vuole? E qui lo vediamo ancora, facciamone ancora un'altra. Ancora un'altra, ma è vero che... Andiamo di silenzio in silenzio, insomma. Sì, sì, di silenzio in silenzio. Senta, ma è vero che lei con Montezemolo ha avuto uno scontro durissimo, che l'ha cacciato dalla Fiat, l'ha mandato dalla Cinzano, perché vendeva gli incontri con l'avvocato Agnelli, forse anche con lei, non so. Sì, è vero questo, ma io non l'ho... Non è che l'abbiamo... Lo scontro durissimo non c'è stato. Ah, non c'è stato. Perché lui ha ammesso quello che avveniva, eravamo insieme l'avvocato Gianni Agnelli ed io, e lui naturalmente ha lasciato immediatamente l'azienda, l'avvocato, non io, gli ha procurato poi una posizione nella Cinzano. Quindi non lo voterebbe se scende in politica? Certamente no.